La Nissa ritrova il sorriso e soprattutto i tre punti e lo fa al Gaetano Favazza di Terrasini contro il Resultana San Lorenzo dove vincendo per 3-1 i biancoscudati si allontanano dalle posizioni più calde della classifica. Partita molto delicata che la società biancoscudata ha affrontato con determinazione e combattezza, trovando anche quel cinismo sottoporta che gli è mancato nelle ultime partite giocate. La scossa la dà il capitano Pablo Lusero che dopo un calcio piazzato respinto dalla difesa del Resultana la palla ritorna tra i piedi del difensore biancoscudato che insecca. Poco dopo arriva il raddoppio con Vignone che riceve un cross basso dalla destra di Esposito e manda la palla in rete. Nella seconda frazione di gioco il Resultana torna in partita con Corbino ma Morales in contropiede regala l'1-3 biancoscudato e tre punti preziosi per la sua squadra. Boccata d'ossigeno per gli uomini di Alessio Sferrazza che vogliono conquistare la matematica salvezza già domenica prossima al Marco Tomaselli contro la Leonfortese per chiudere la pratica e guardare al futuro. Eccellenza, Gironea, ventisettesima giornata. Resultana, Nissa, 1-3. Nuova città di Gela, Parmonval, 3-0. Cus Palermo, Acragas, 0-4. Castellammare, Profavara, 2-2. Don Carlo, Misilmeri, Casteldaccia, 1-4. Enna, Oratorio, San Ciro e Giorgio, 3-0. Leonfortese e Mazzara, 2-2. Mazzarese e Sciacca, 2-0. La classifica. Enna e Acragas, 65. Profavara, 55. Don Carlo, Misilmeri e Mazzarese, 50. Mazzara, 43. Sciacca, 41. Casteldaccia, 32. Nissa, 31. Castellammare, 29. Oratorio, San Ciro e Giorgio, 27. Resultana, Leonfortese e Nuova città di Gela, 26. Cus Palermo, 23. Chiude la Parmonval a 8.